Il Comune di Serra ha conferito la cittadinanza onoraria al colonnello Stefano Capriglione, attuale comandante del reggimento logistico Garibaldi di stanza Persano, e al comando comprensorio militare di Persano, guidato dal colonnello Fausto Ciriaco Troisi. Ieri la cerimonia ufficiale, al termine della quale, è stata anche scoperta una lapide in memoria dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. È una bella giornata perché viene conferita la cittadinanza onoraria al comando comprensorio di Persano e al reggimento logistico Garibaldi. Perché? Perché attraverso il loro operato, il loro illustro che hanno dato a Serra, attraverso ovviamente e soprattutto anche i due comandanti, il colonnello Troisi e il colonnello Capriglione, che hanno instaurato con il Comune di Serra un rapporto splendido, costruttivo e sempre proficuo. Pertanto per noi è stato un onore conferire la cittadinanza e anche un piacere, sperando che i rapporti che si sono instaurati continuino e si intensifichino sempre più con tutta la base militare di Persano. È stata veramente un'occasione importante per il mio comando, soprattutto perché, come ha ben detto il Sindaco durante la presentazione della delibera, voglio dire, suggella una collaborazione che ci è già stata in passato, c'è ancora e sicuramente sarà portata avanti in maniera ancora più forte con questa comunità. Sì, assolutamente, è un onore per noi, Reggimento Logistico Garibaldi, ricevere questa cittadinanza donaria che è il riconoscimento dell'operato, delle forze armate e in particolare dell'esercito e del reggimento all'interno della società. Per noi, ovviamente, questo sarà un motivo di vante e di orgoglio che porteremo avanti nel tempo, sempre con spirito di collaborazione con le istituzioni locali.